Sembrata una serata letteraria, credo che anche a voi abbia fatto questa impressione il titolo però dalla scenografia e da tutto il cast che vi accompagnerà questa sera vi sarete resi conto che andremo incontro a una serata un po' sui generis, un po' anomala, un po' particolare che nasce da un'occasione. L'occasione è il bicentenario della pubblicazione del libro Viaggio in Italia, è un libro scritto dal grande poeta tedesco su appunti raccolti durante il suo soggiorno in Italia avvenuto 30 anni prima nel 1786. In realtà la pubblicazione, questa ricorrenza è stato uno degli spunti un ulteriore spunto ci è stato dato da un articolo apparso sulla Repubblica a cura di